Allora, che cos'è l'ortocratologia non c'è bisogno di dirlo, penso ormai è una cosa consolidata. Però come si affronta i discorsi in modo serio? È il tema di questo congresso. Le intuizioni sono molto belle e servono tanto, però poi vanno supportate con dei dati. I dati che hanno senso sono soltanto le evidenze, le evidenze scientifiche. E quindi, insieme a voi, vorrei fare una carrellata su cosa dice la letteratura scientifica su uno degli aspetti dell'ortocratologia. Che non è tanto se funziona o se non funziona per correggere la miopia, la presbiovia, l'ipermicropia. Parliamo di miopia? Credo che non ci sia grossi dubbi, non ci sarebbe neanche il tempo di affrontare tutti questi argomenti. E quindi io dopo è scontato che le evidenze, se dimostrano che l'ortocratologia funziona come mezzo correttivo, non di controllo della progressione, ma come mezzo correttivo, credo che le evidenze siano sufficienti. E quindi vi salto questo pezzo. Allora, ieri Laura ha fatto vedere una piramide, Laura Buccardo. E questa è la piramide delle evidenze scientifiche. Riguardiamola un po' insieme. Cioè, come si arriva a dimostrare, a capire, a prendere delle decisioni per sapere se una cosa funziona o se è soltanto un'idea teorica oppure no? Bisogna fare delle considerazioni che si basano sulle evidenze. E quindi vediamo qual è la scala di queste evidenze. Allora, quando si fa ricerca, si parte dalle ricerche in vitro. Noi non facciamo ricerche in vitro perché, o quantomeno, io non mi occupo di questo e quindi non vi racconterò di questo. Poi si fanno, ahimè, si fanno gli esperimenti sugli animali. Quindi si manipolano i polli, le scimmie, i gatti, i poverini, gli si mettono le lenti d'ortocratologia, poi gli si cava l'occhio, poi si taglia, si guarda se cambia l'epiteglio, se cambia lo stroma. Non vi racconterò queste cose. Vi racconterò soltanto le cose che si fanno sui cristiani. E quindi, passando all'uomo, da dove si parte? Si parte all'inizio dall'opinione degli esperti, cioè da chi si intende di quell'argomento. E qui siamo però alla base, cioè l'opinione degli esperti, per quanto siano esperti, non è sufficiente per darci delle evidenze certe. E quindi poi bisogna salire le scale di questa piramide. Allo scalino, subito sopra quello dell'opinione, c'è l'osservazione dei singoli casi. Cioè, io vedo un caso e questo caso mi porta a dei risultati. Ovviamente una rondine da sua non fa primavera, quindi un caso da solo non è sufficiente. Però questa è la prima evidenza. A volte è un'evidenza giusta, a volte è un'evidenza sbagliata, però comunque è la prima evidenza. E quindi l'osservazione dei casi è una cosa decisamente utile. Poi un caso solo non basta e quindi il gradino sopra qual è? L'osservazione di una serie di casi. Anche questo però non è molto, molto robusto. E quindi per poter verificare, per avere un'evidenza ancora più forte, bisogna mettere a confronto la serie dei casi con un gruppo di controllo. Poi si va avanti, gli studi diventano ancora più complessi, però diventano ancora più potenti. Adesso non vi faccio tutta la storia di come si fa la ricerca scientifica, però arriviamo al vertice della piramide dove c'è la revisione sistematica della letteratura scientifica. Cioè di tutti quei casi o tutti quegli studi che sono stati pubblicati, si fa una rassegna, una revisione sistematica che vuol dire che non si prendono quelli che ci garbano di più. Si prendono tutti quelli che rispettano dei criteri che si stabiliscono a priori. Cioè si fa una ricerca invece che sui casi, si fa una ricerca sulla letteratura. Prima si stabilisce criterio, poi si fa la ricerca, si includono gli studi che rispettano quei criteri e questa è la revisione sistematica. Una volta che si è fatta la revisione sistematica, si fa l'analisi statistica delle statistiche che hanno fatto gli altri. Questa si chiama meta-analisi e che è al vertice della piramide. Quindi le meta-analisi sono quegli strumenti di analisi statistica, quindi un metodo scientifico che ci dà la più forte evidenza, l'evidenza più robusta. Vediamo l'ortoceratologia, come si distribuisce all'interno di questa piramide. E quindi si parte, non dagli animali perché non faccio questi tipi di esperimenti, faccio attività clinica e quindi si parte con un caso. E questo è un caso, uno dei miei casi. Quindi Alessandro, 13 anni, miopia abbastanza bassa, però abbastanza preoccupante perché l'anno prima c'aveva una diottria meno, l'anno prima ancora c'aveva una diottria meno ancora. E quindi una progressione di una diottria all'anno. Il problema di Alessandro qual era? Non era tanto la sua miopia, ma Alessandro giocava a calcio, faceva calcio, ha iniziato a fare calcio a livello agonistico. E quindi nonostante la bassa miopia, soprattutto quando faceva le partite notturne, con un visus di un decimo e mezzo, non era sufficiente. E quindi poteva portare la lente a contatto morbido, senza problemi. E abbiamo deciso insieme ai genitori di provare a fare l'ortoceratologia. E abbiamo fatto l'ortoceratologia. E abbiamo messo una lente per miopia di questo tipo. Questo è prima di metterle le lenti, uno dei due occhi. Dopo la prima notte il risultato era molto incoraggiante. Il ragazzino era contentissimo, la mamma era entusiasta. Cosa ti hanno fatto questi? Guardami ci vedi bene, ovviamente dopo una notte non basta. Ecco, e quindi dopo una settimana però il risultato era più robusto e siamo arrivati alla stabilità. Va bene, poi dopo un mese ancora più stabile, e un visus corretto completamente, non è un caso molto difficile, però la cosa interessante è che dopo sei mesi, dove ci aspettavamo un peggioramento di mezzo diottria, se andavamo avanti con il tasso di incremento della miopia che aveva prima, ci aspettavamo che con quelle lenti non fossero più sufficienti. Invece la sovra rifrazione sulle sue lenti era a plano. E dice, ma sei mesi sono pochi. All'epoca Alessandro aveva 13 anni, oggi Alessandro ce ne ha 20, e quindi sono passati sette anni. Gioca ancora a calcio, è cresciuto di una venticinquina di centimetri, ha avventato di una ventina di chili di massa muscolare, gli è venuta la barba, ha due gambe grosse così, e però la sua miopia è rimasta la stessa. Va bene, dice, certo, ma perché gli hai fatto l'ortodiratologia? No, perché con le lenti che vengono cambiate con una cadenza annuale, le lenti hanno sempre gli stessi parametri. Si fa la sovra rifrazione, in questo caso, ma è un caso solo. E quindi una rorni che fa primavera, abbiamo discusso un po' su Facebook, e vabbè, è un caso solo, ma che ci importa? Un caso non è sufficiente. E evidentemente un caso non è sufficiente. Allora cosa abbiamo fatto? Con le due mie lauree, una è un'amica che è Laura Livi e una è Laura Boccardo, in cui c'è un rapporto ancora più stretto, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un'analisi retrospettiva della nostra casistica, e quindi siamo andati a fare il secondo step di quella piramide. Quindi non uno solo, ma l'abbiamo fatto, un'analisi retrospettiva, ma non una serie di casi, abbiamo fatto un altro salto, cioè l'abbiamo confrontati con un gruppo di controllo. E quindi abbiamo preso due gruppi, 50 ragazzini, metà portavano gli occhiali o lenti a contatto convenzionali, gli altri portavano corretti con l'ortocratologia. Il criterio era che dovevano avere un'età inferiore a 18 anni, quindi ancora in età evolutiva. La media dell'età è la stessa, con la stessa varianza, e quindi gruppi sovrapposti, quindi omogeni, questa è una cosa importante, non si possono confrontare le mere con le pere, anche se si assomigliano, perché sono due cose differenti. E quindi abbiamo cercato di fare una cosa omogenea. L'equivalente sferico prima di partire era sovrapponibile, non c'era differenza. E questa è l'acuità visiva. L'acuità visiva, ovviamente, come ci aspettiamo, è migliorata parecchio, perché questa era l'acuità visiva prima di fargli l'ortocratologia, naturale, questa è l'acuità visiva con correzione, prima, con correzione dopo, e l'acuità visiva corretta non è cambiata. Ma la cosa che è cambiato tanto è cambiato l'acuità visiva naturale, senza correzione. Cioè, siamo arrivati, si arriva mediamente a una correzione completa. E questa è l'efficacia per quanto riguarda la correzione. Ma non vi voglio parlare di questo. Voglio approfondire quest'altro aspetto. Cioè, tutte queste righe cosa rappresentano? Ogni riga è un caso. E l'altezza da dove si parte o dove si arriva è il grado di miopia, l'equivalente sferico, e sull'asse X abbiamo il tempo. Quindi, prima di cominciare, dopo un anno, dopo due anni e dopo tre anni. E questo è il gruppo di controllo. Cioè, quelli che portano un occhiale o lente a contatto convenzionali morbide. Sostanzialmente tutti i denti morbidi portano questi ragazzetti. E quello che si vede, si vede che quasi tutti, non tutti, questo rimane stabile. Ma questo cresce. Cioè, più è ripida questa linea, maggiore il tasso di progressione. E poi, se cambia pendenza, vuol dire che cambia progressione. Guardiamo un po' qua. Questo è il gruppo dell'ortochiratologia. Non sono tutti pari, pari, pari. Ma parecchi sono pari. Gruppo di controllo, gruppo dell'ortochiratologia. Confrontiamolo in modo un pochino più facile da capire. Allora, questo è l'andamento medio. Le barre sono la varianza, la deviazione standard. E quello che si vede, si vede che si apre la forbice tra quelli corretti con l'ortochiratologia e quelli corretti con modi convenzionali. Cioè, sostanzialmente, l'ortochiratologia, almeno in questo gruppo, tende a far rimanere mediamente la miovia allo stesso livello, rispetto al gruppo di controllo. E questa è la differenza mostrata in altri modi. Quindi la mia via mediamente aumenta, ma aumenta molto poco in confronto al gruppo di controllo. Ok. E la metanalisi si può fare? Si può fare anche la metanalisi. La metanalisi è più impegnativa, ovviamente, perché io vi ho fatto vedere la mia casistica. Adesso vi faccio vedere, invece, cosa dice la letteratura scientifica all'apice della piramide. Questo articolo l'avete già visto, ieri già è stato citato un paio di volte. Perché quest'articolo ha fatto la meta-analisi, la revisione sistematica, prima e la meta-analisi dopo, non dell'ortochiratologia, ma di tanti metodi provati per rallentare la progressione della mia via. Sono stati inclusi 16, non uno, 16. Ieri il dottor Caputo ci ha fatto vedere, approfondito il discorso sulla tropina. Questi sono tutti i metodi che sono stati provati, non c'è tempo per spiegarli tutti, quindi andiamo al suono. Questi sono i risultati. Questo è l'incremento medio della lunghezza assiale. In questo caso si considera lunghezza assiale in un dato ancora più oggettivo. Cioè, non soltanto il dato ottico, ma anche il dato anatomico. Ecco, quindi, questa riga qui cosa vuol dire? Questo è il gruppo di controllo, quello che porta gli occhiali. Se siamo sopra, vuol dire che si allunga di più. Se siamo sotto, vuol dire che si allunga meno. Ogni cubetto è il metodo che è stato analizzato. Quello che funziona di più è la tropina ad alto dosaggio. Con tutti gli effetti collaterali, però, qui si parla di efficacia sulla professione. Questa è la tropina a medio dosaggio. Che è la seconda, quasi a pari merito. Questa è la tropina a basso dosaggio. E quindi, la tropina è il metodo che rallenta di più. Ma, se noi guardiamo cosa c'è subito sotto, eccolo qua, e questo non è che funziona meno della tropina a basso dosaggio, che secondo il dottor Caputo è quella che si dovrebbe usare perché è quella che ha meno effetti rebound e meno effetti collaterali. Ma ha lo stesso effetto, cioè l'ortochiratologia, per quanto riguarda l'allungamento assiale, a meno per quanto riguarda questo lavoro di meta-analisi, ha lo stesso effetto della tropina a basso dosaggio. e quindi è il metodo ottico che funziona più di tutti. Ok, ovviamente c'è una correlazione molto stretta fra allungamento assiale e cambiamenti refrattivi. Non c'è soltanto l'allungamento assiale, ma l'allungamento assiale è quello che preoccupa di più perché più si allunga l'occhio, Giacomelli, Lavencucci, insomma gli ocudisti che abbiamo invitato ieri ci hanno raccontato quale sono l'incremento di rischio che c'è quando si allunga di più l'occhio. Cioè sostanzialmente aumenta il rischio di complicanze corioretiniche. Ora io non voglio dire che l'ortochiratologia come qualcuno fa è un previene i problemi della patologia, della miopia patologica. Io questo non lo credo. Però comunque ha effetto sull'allungamento. I lavori ce ne sono, questi sono lavori controllati, questi sono i più robusti, diciamo così. Ok, e di tutti questi lavori ci sono anche delle meta-analisi e ce ne sono quattro. Una di queste quattro a una di queste quattro ho avuto il piacere e l'onore di partecipare anch'io che è questa qua. Ormai sono passati tre anni da quando abbiamo fatto questa meta-analisi. Ecco, ma la meta-analisi cosa dà di vantaggio? È che permette di aumentare la potenza dell'analisi statistica perché si parte da altri gruppi, si aumenta il numero di casi e questo ci permette di avere una statistica più consistente. Vediamo quali sono stati i risultati della nostra meta-analisi. Ecco, sono stati inclusi una volta fatta la revisione sistematica otto studi pubblicati in precedenza rispettavano i criteri di selezione. Ecco, questi otto studi comportavano 769 soggetti. Quindi, abbastanza robusta come numero. Ecco, il follow-up minimo è stato di due anni. Non abbiamo i risultati a vent'anni, ma a due anni ce l'abbiamo. E non c'era statisticamente, cioè, non c'era una differenza statisticamente significativa fra quelli che hanno abbandonato e quelli che hanno continuato. E questo è il risultato della meta-analisi degli otto studi. Sostanzialmente ci sono delle differenze, ogni barrettina è uno studio, ma come vediamo questo è lo zero, non c'è effetto, questo è peggio e questo è meglio. Come vedete, cioè, sono tutti abbastanza simili. La conclusione del nostro lavoro è che l'ortocatologia è efficace, accettabile per rallentare la progressione della miocchia nei bambini se sono educati e monitorati. Quanto tempo c'ho? Finito? Ecco, però questo non ci basta, cioè, abbiamo dimostrato e abbiamo una solida e robusta evidenza scientifica che l'ortocatologia è efficace, non è sufficiente che sia efficace, deve essere sicura anche, cioè, non ci devono essere le reazioni avverse importanti. E questa domanda ce la dobbiamo sempre proporre e ce la dobbiamo anche noi. È sicuro oppure no? Ecco, quando è uscito questo articolo, ci siamo preoccupati parecchio, qui siamo nel 2004 e questo articolo che fu pubblicato su una rivista di forte impatto su oftalmologi, l'oftalmologi è la rivista dell'America d'Alcanico, l'oftalmologi è la rivista dell'oftalmologia clinica che ha un impatto, non dico più alto di tutti, ma molto, molto, molto alto. E c'è il risultato di questa revisione di casi pubblicati, qual'era? Eccoli qua. Sono tutti esiti di cheratite microbica infettiva di ulcere e ahimè sono quasi tutti bambini. E questo ci ha preoccupato parecchio, ci ha preoccupato parecchio, però poi andando a vedere, quindi, intanto sono tutti cinesi, questo non vuol dire che i cinesi sono come i pisani diceva Ierigori, no, no, assolutamente. ecco, il fatto che sia in cinesi qual'era? Che all'epoca in Cina non c'era una regolamentazione solida dell'ortochiratologia, cioè l'ortochiratologia viene fatta con lenti disegnate in modo casuale, senza controllo, senza educazione, senza usare la lampa a fessura, con lenti in polimetri metacrilato, ma qui siamo nel 2004, la Cina è cambiata tantissimo, va bene, oggi non è più così, io ho avuto il piacere di essere stato invitato a un congresso a Shanghai due anni fa, è cambiato completamente, cioè le regole che ci sono in Cina sono molto, molto più restrittive di quelli che abbiamo in Europa, molto più restrittive di quelle che sono agli Stati Uniti, che sono più restrittive di quelle che abbiamo in Europa. Questo perché? Perché hanno risposto a questo effetto e quindi oggi le cose sono cambiate completamente. negli Stati Uniti l'FDA che è un organo di controllo aveva commissionato di sorvegliare e quindi il lavoro fu commissionato a Baltimore e su 1300 pazienti soltanto due eventi erano stati registrati di creatite micropica su fortunatamente in nessuno di questi due casi c'era stata una perdita permanente invece in quei casi che vi ho fatto vedere prima c'era un'opacità qualcuno ha dovuto fare una creatoplastica e pensate di fare una creatoplastica a un bambino è una cosa molto molto pesante. Allora ritorniamo a noi quindi il lavoro di Valli Mori riporta che il rischio di creatite micropica nell'ortocratologia notturna è abbastanza comparabile a quello di altre procedure contattologiche più convenzionali. Ok ma cosa dice la letteratura scientifica oggi? E io sono andato a cercare questa revisione sistematica della letteratura e questo è un articolo relativamente recente va bene pubblicato nel 2006 e quindi la revisione della letteratura in questo caso ha ha incluso 170 pubblicazioni non una 170 pubblicazioni 58 in lingua inglese 112 in cinese c'è un forte fermento nel mondo asiatico un po' perché c'è molta 2016 sì 2016 scusa scusa e c'è un forte fermento un po' perché ci sono un sacco di miopi un po' perché c'è un sacco di gente quindi si fanno un sacco di cose e un po' perché c'erano state quelle reazioni avverse che avevano portato la reputazione della pratica cinese a livelli abbastanza bassi e oggi invece e a livelli molto alti molto molto alti molta letteratura scientifica attuale è prodotta in Cina ok questi sono i risultati quindi i risultati è che la creativa microbica di questa revisione sistematica di 170 pubblicazioni non di di due o tre ecco il rischio di creativa microbica nell'ortocratologia notturna è simile a quella di altre modalità e le complicanze più frequenti sono lo staining corneale lo staining corneale è colorazione si mette la florescina e colora ma non è una complicanza grave per fortuna quindi poi una cosa importante è che non ci sono pubblicate quantomeno effetti a lungo termine sul endotelio della cornea cioè non ci sono segni di stress ipostico cronico come potremmo aspettarci in qualche caso quindi la conclusione è che c'è sufficiente evidenza scientifica che l'ortocratologia sia una procedura sicura e efficace per rallentare l'ortocratologia la mio via tuttavia per ottenere nel lungo periodo successo è richiesto la combinazione di applicazioni fatte a modo come si deve non applicazioni fatte così ti mando una lente gliela metto proviamo ti do una topografia prestiamo una no protocolli condivisi educazione dell'applicatore e si deve fare le cose in modo rigoroso oltre a questo bisogna educare i pazienti ad attenersi a quello che devono fare ovviamente devono seguire il regime giusto non prendere la lente lasciarlo sotto l'acqua oppure gli do una ciucciadina me la metto perché questo aumenta il rischio qualcuno sorride ma questo succede succede purtroppo succede e questo ovviamente alza il rischio e quindi bisogna poi seguire stare seguire le indicazioni dei controlli cioè i controlli vanno programmati e vanno fatti non un controllo alla settimana ovviamente ma i controlli bisogna fare tagliando altrimenti si rischia e il motore si rompa e quindi questo serve questo serve per poter effettuare un trattamento in sicurezza oltre che inefficacia e quindi secondo me questa frase pubblicata in quella revisione sistematica è un po' quello che è il messaggio di questo congresso cioè basarsi sulle evidenze ed attenersi a delle procedure di buona pratica per finire l'ortocratologia ricordiamoci che non è soltanto non ha soltanto degli aspetti ottici questo è un lavoro pubblicato dall'Ips ma è un po' di tempo fa e questo lavoro è andato a indagare qual è l'impatto di questa modalità correttiva sulla sull'aspetto psicologico chiamiamoli così e riportando a cioè dimostrando che migliora non soltanto la qualità della della visione ad occhio nudo un po' peggiora che la corretta ma soprattutto migliora la qualità della vita e questo secondo me è la cosa più importante grazie 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 grazie